Quest'anno insieme a Fiam presentiamo una nuova poltroncina chiamata Newton, l'incorrenamento di una lunga collaborazione con Fiam perché è partita circa dieci anni fa, abbiamo sviluppato tantissimi prodotti insieme anche di successo e Fiam per noi è un'azienda importante perché ha creduto nel nostro studio, ci ha dato la possibilità di affacciarci sul mondo del mercato reale e quindi fin dall'inizio e la collaborazione appunto va avanti, siamo sempre molto contenti di collaborare. Dicevamo che quest'anno presentiamo appunto Newton che ha una particolarità, si distingue dalla tipologia delle poltroncine presenti sul mercato grazie a questa forma molto sinuosa che quindi va a creare con lo schienale che si alza e va ad abbracciarsi su questo punto di giunzione va a creare un'asola che alleggerisce molto la silhouette della poltroncina. Con la poltroncina Newton introduciamo la struttura interamente in legno massello verniciata a por aperto che non era presente finora nel catalogo Fiam. Siamo contenti ecco del risultato perché si sposa bene con le finiture di questa poltroncina che sono pelle e nabuc. C'è stata una particolare attenzione anche sulla lavorazione e sulla posizione delle cuciture che vanno a disegnare quindi ad esaltare il layout, la silhouette di questa poltroncina. Il processo che ci porta alla realizzazione quindi alla finalizzazione di questi prodotti insieme a Fiam si è affinato nel tempo e devo dire che siamo sempre molto contenti di poter collaborare con questa realtà soprattutto perché sposa fin dall'inizio soluzioni anche più rischiose apparentemente e poi ci mette tutte le forze, tutte le potenzialità e il know-how che ha maturato nei suoi anni di attività per arrivare alle conclusioni che soddisfino i designer. Quindi andremo avanti con loro a sviluppare diverse soluzioni e ci vedremo alle prossime fiere.